Presidente Terzoli, avete presentato ieri sera il bilancio di Acqua e Novara VCO, come è andata? Beh, devo dire bene, siamo molto soddisfatti di questo primo bilancio che rappresenta il primo dopo la fusione tra Acqua e Novara e Acqua Nord. È un bilancio che chiude con più di 61 milioni di fatturate e con più di 2 milioni di utile netto. Quindi un risultato assolutamente positivo e questi dati ci consentono di andare avanti nel programma di sviluppo e di investimenti, nel senso che avendo questa possibilità economica riusciamo a sostenere un piano di investimenti di un certo tipo. Questa fusione tra Acqua e Novara e Acqua e Nord non ha portato a tagli come in molti temevano? Sì, poco più di un anno fa c'erano i sindacati che erano preoccupati di questo aspetto, invece devo dire che non c'è stato nessun taglio e una persona sola, che tra l'altro l'ha fatto volontariamente, è stata trasfittata a Verbagna e Novara. Il resto, tutte le maestranze sono rimaste dove erano prima. C'è stata una riorganizzazione territoriale, questo sì, che però non ha intaccato quelle che sono le disposizioni delle unità operative sul territorio. C'è stata un'organizzazione dei punti, tutta la provincia di Novara è organizzata su due punti operativi, Novara e Borgomanero, e nel VCO abbiamo razionalizzato perché c'erano cinque punti operativi, stanno diventando tre, che sono Verbagna, Gravellona e Cannobbio. Per quanto riguarda gli investimenti futuri, quali saranno nei prossimi tre anni? Il piano 2014-2017 degli investimenti prevede un totale di circa 45 milioni, quindi una cifra assolutamente rilevante, che ci è consentito fare per quello che dicevo prima, per comunque la redditività che l'azienda genera. Per ora siamo in linea nel primo anno che è trascorso col piano degli investimenti, quindi intendiamo proseguire su questa direttrice. So anche che c'è un'attenzione verso il sociale. Sì, quest'anno proprio per i dati confortanti e i risultati economici dell'azienda è stato costituito per il 2015 un fondo di 20.000 euro, che noi abbiamo chiamato un fondo per gli indigenti, nel senso che su segnalazione sia dei nostri operai che entrano nelle case e quindi si rendono conto di situazioni di disagio importanti o su segnalazioni di servizi sociali, su casi che poi verranno verificati, c'è questo fondo per sgravare le bollette di famiglie particolarmente bisognose del nostro territorio. Com'è la situazione della rete idrica del territorio? Sicuramente è una rete datata che abbiamo realizzato dai comuni con diversi problemi, sia sulla captazione sia sulla dispersione idrica, che supera il 30%. Quindi i primi interventi di investimento sono nel migliorare la rete e nel diminuire la dispersione e nel migliorare il servizio dei cittadini e nell'aspetto della depurazione, che è un altro settore importante, dove poi ci sono anche dei risvolti dal punto di vista sanitario e quindi basta citare l'investimento fatto sul depuratore di Verbagna per più di 3 milioni. Dopo finita questa fase che dovrebbe portare comunque alla diminuzione delle perdite e quindi dei costi operativi, ci saranno gli investimenti a più lungo termine sul rifacimento completo di alcuni tratti.